Tra l'altro venendo più o meno verso il di noi Sta puntando dritto a Cannon Cove Il libero che si sta inchiappettando l'altra Quindi sì E c'è anche un emissario Le Davis, l'avevi detto? No, non l'avevo visto Sì, è in un angolo delle Davis Proprio tipo in culo ai lufo Cazzo è E l'era degli emissari Inoltre non lo metteva più nessuno Adesso con i tutorial non ho capito come si fa Quindi adesso ci bisogna di farmare Adesso